Ciao a tutti insomma, siamo in un nuovissimo video Lo so, dei di voi state domandando perché non fai video Pokémon più o perché stai facendo pochi video in un giorno e un po' di un cambiamento ma oggi giocheremo a un po' dei giochi Pokémon Pam, c'è stato così facile Che c'è? Non voglio una donna No No Scare di treine Nope un'altra cosa è che la treina pirata va bene bene D'accordo se è andato a che scrivo Fight il mio giovane bambino no 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 perché c'è anche qualche c'è anche una persona che si chiama ma mai non so chi vuoi chi ma perché cos'è ma proteggo ben bidone ho fatto questo bravo scherzando ancora no bidone Rekrom che vuole dire Morire 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 are non si è il livello 9 non si è il livello 1 mila poi il massimo livello i detriti a qualcosa un indigno più potere più potere novamente ora facciamo ora facciamo ora facciamo nonostante cosa costruisci questo quadro i video giocchi non sono mai possibile questi qua pure dove trovi quel non ci può essere una persona dentro il tesoro vidone che vuoi far, che vuoi far ma non c'è guia ma che cosa ma puoi avere alcuna è un po' che fico ma è un po' che non è un problema è un po' che fico 1.20 3 più 5 8 15 più 3 18 non è possibile 20 20 chi ci crede ma dovrebbe avere più vita è molto più vita 3 allora ciao dove non si non ho dimenticato fatti i video